Scarsissima partecipazione popolare al Consiglio Comunale convocato lunedì 29 alle 13.30 dalle sindaco Loiero per la trattazione degli equilibri di bilancio 2019. Le casse comunali, secondo i risultati dichiarati dalla stessa amministrazione, sono in rosso per oltre 120.000 euro ed il vice sindaco con delega al bilancio ha riferito che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio non consentiranno di fare fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte per cui l'ente deve bloccare i pagamenti. Non si sa quanto ammontano i debiti fuori bilancio accumulati per effetto delle sentenze sfavorevoli all'ente perché i vertici del nostro governo si dichiarano impotenti di fronte alle domande poiché il funzionario preposto è in ferie e non può fornire i dati necessari. Il responsabile finanziario però, nella sua relazione d'accompagnamento, aveva dichiarato con assoluta certezza l'inesistenza di debiti fuori bilancio. Ci troviamo di fronte ad un'amministrazione che brancola nel buio, contraddicendosi senza avere la minima certezza di quello che scrive e di quello che va a votare in Consiglio. L'Avvocatura dello Stato, un mese fa, li ha definite esattamente incapaci. Noi, conclude il gruppo di Primavera Politica, lo diciamo da due anni.